ciao in questo video faremo la sfida dei salti indietro stoppati ma in questa maniera ognuno deve fare tre salti indietro di fila stoppati e si passa alla fase successiva ok se invece una sola riuscirà a fare tre salti stoppati di fila vince pronte chi inizia fate un salto indietro solo per provare la testa e poi si parte ok chi comincia giadi uno due tre vai micchi ti puoi girare per così uno due tre devo uno due tre mi sa che è troppo semplice eh uno no peccato vai fede uno due tre emma ciao ok allora le vincitrici spareggio vediamo ancora una volta tre di fila giusti mi sa che è troppo semplice mi sa che non ci puoi girare per tutti i fila giusti uno due tre micchi uno Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Allora adesso ci sono due possibilità, possiamo farle o andando avanti fin quando c'è chi ne fa di più stoppati, oppure Carpio. Carpio, tre di fila stoppati Carpio. O volete fare il raccolto fin quando arrivate di più? Va bene Carpio, ok. Fatene uno di prova tutti e quattro. Ciao Giadi. Miki. Ciao Miki. Uno. Due. No! Due. Ok, vince Debora perché è quella che ne ha fatti più stoppati di fila. Ciao. Ciao. Tutto. Grazie.